Il deputato che non aveva preso il dolce stava bevendo il caffè. Anche Maigret rinunciò al dolce e chiese un caffè e un'acquavite. Poi si riempì la pipa, passando mentalmente in rassegna, le facce che aveva conosciuto alla Rode Sossè. Era come se avesse un nome sulla punta della lingua e non riuscisse a ricordarselo. Da quando gli avevano parlato dell'uomo corpulento e soprattutto da quando era emerso il particolare del sigaro, la sua memoria si era messa in moto. Era così preso dei suoi pensieri, da notare appena che Masculen si stava alzando dopo essersi pulito la bocca col tovagliolo e aver scambiato qualche parola con gli altri commensali. A essere precisi lo vide alzarsi, spostare il tavolo per farsi largo e poi avanzare disinvolto verso di lui. Ma era come se la cosa non lo riguardasse affatto. «Permette, commissario?» disse Masculen afferrando lo schienale della sedia di fronte a Maigret. Era serio in volto e aveva solo un piccolo fremito all'angolo della bocca, probabilmente un tic nervoso. Maigret ebbe un attimo di sconcerto. Questa non se l'aspettava. Non aveva mai sentito la voce di Masculen che si rivelò bassa e di timbro gradevole. A detta di molti, era proprio per via di quella voce che le donne, nonostante il suo viso poco attraente da grande inquisitore, si contendevano i posti alla camera quando doveva prendere la parola. È davvero una strana coincidenza che lei sia venuto qui oggi. Stavo per telefonarle. Maigret rimase imperturbabile, sforzandosi per quanto possibile di rendergli le cose più difficili. Ma il deputato non sembrò impressionato dal suo silenzio. Ho appena saputo che è lei a occuparsi di picche male del rapporto Calam. Parlava sottovoce, ma furono ugualmente molti gli avventori che si girarono a guardarli. Non solo ho alcune importanti informazioni da darle, ma penso che dovrei fare una deposizione ufficiale. Forse sarebbe bene che mandasse quanto prima uno dei suoi ispettori alla camera per trascriverla. Chiunque potrà indicargli dove trovarmi. Maigret non fece una piega. Si tratta di picche male con cui mi è capitato di trovarmi in contatto la settimana scorsa. Il commissario aveva in tasca la lettera di Masculin e cominciava a capire perché il deputato avesse sentito il bisogno di parlargli. Non so più in che giorno il mio segretario mi ha fatto leggere una delle tante lettere che ricevo quotidianamente e alle quali all'incarico di rispondere. Era firmata picche male e riportava l'indirizzo di un alberghetto di Rougiacob, di cui ho dimenticato il nome. Il nome di una provincia, se non sbaglio. Senza togliergli gli occhi di dosso, Maigret beve un sorso di caffè e ripresi a fumare la pipa a brevi boccate. Ogni giorno, come puoi immaginare, ricevo centinaia di lettere da parte di gente di tutti i generi, matti o mezzi matti, ma anche persone oneste che mi segnalano abusi. Il mio segretario, un giovane in gamba nel quale ripongo piena fiducia, ha il compito di selezionarle. Senza una ragione precisa, osservando il viso del suo interlocutore, Maigret si domandò se fosse un omosessuale. Non aveva mai sentito chiacchiere del genere sul suo conto. Se lo era, lo mascherava bene. Al commissario parve che questo avrebbe potuto spiegare certi tratti del carattere di masculin. La lettera di Pichemal mi è sembrata sincera e sono sicuro che lei avrebbe la stessa impressione se la ritrovassi, perché mi sentirei in dovere di fargliela avere. Sosteneva di essere l'unica persona in tutta Parigi a sapere dov'era il rapporto Calam e a essere in grado di procurarselo. Aggiungeva che si rivolgeva a me invece che a un'istituzione ufficiale, perché c'era troppa gente interessata a mettere tutto a tacere e io ero l'unico di cui si fidava. Mi scusi se uso le sue parole, per ogni eventualità gli ho scritto due righe per fissare un appuntamento. Maigret, senza scomporsi, prese il portafoglio dalla tasca, ne tirò fuori la lettera con l'intestazione della camera e la mostrò al deputato, ma nonostante il gesto che masculin fece per afferrarla non gliela porse. «Si riferisce a questa?» «Credo di sì, mi sembra di riconoscere la mia grafia.» Non chiese in che modo Maigret l'avesse avuta, evitò di manifestare la benché minima sorpresa e constatò «Vedo che è al corrente.» Ho incontrato Pichemala alla Brasserie di Croissant, non lontano dalla tipografia dove concentra una parte dei miei appuntamenti serali. Mi è parso un tipo un po' esaltato, un po' troppo frondista per i miei gusti. L'ho lasciato parlare. «Le ha detto di essere in possesso del rapporto?» «Non proprio, i tipi come lui non la fanno mai così semplice. Hanno bisogno di creare intorno a sé un'atmosfera da complotto.» Mi ha detto che lavorava all'Istituto del Genio Civile, che gli era capitato di collaborare come assistente con il professor Calam e che sapeva dove trovare il rapporto redatto a suo tempo in merito al sanatorio di Clerfond. La conversazione è durata meno di dieci minuti perché avevo da rivedere le bozze del mio articolo. In seguito Pichemala le ha portato il rapporto. «Ah, non l'ho più visto. Si era offerto di consegnarmelo il lunedì o il martedì successivo o al più tardi il mercoledì. Gli ho risposto di no. Non volevo che il documento mi passasse per le mani. Lei può facilmente intuire il motivo. Quel rapporto è dinamite. Oggi ne abbiamo la prova.» «A chi gli ha suggerito di consegnarlo?» «Ai suoi superiori.» «Vale a dire al direttore dell'istituto del genio civile?» «Non mi pare di essere stato così preciso. Forse ho pronunciato la parola ministero la prima che mi è venuta alle labbra.» «Non ha mai provato a telefonarle?» «No che io sappia.» «E neanche a incontrarla?» «Se ha provato non ci ha riuscito perché, come le ho detto, non ho più avuto sue notizie, se non dai giornali.» «Sembra che abbia seguito il mio consiglio, esagerando un po', visto che è andato dal ministro in persona. Quando ho sentito della sua scomparsa, mi sono ripromesso di informarla dell'accaduto. Ed eccomi qui. Considerando le possibili ripercussioni della faccenda, preferisco che la mia dichiarazione sia messa ufficialmente a verbale, quindi se nel pomeriggio volesse.» Maigret non aveva alternative. Era costretto a mandargli qualcuno per prendere nota della sua deposizione. Ed era sicuro che l'ispettore avrebbe trovato Masculin circondato da un buon numero di colleghi e giornalisti. Non era quello un modo di accusare Auguste Poin? «La ringrazio, provvederò», si limitò a mormorare. Masculin parve disorientato, come se si fosse aspettato qualcosa di diverso. Forse si era immaginato che il commissario gli avrebbe posto domande imbarazzanti, oppure che avrebbe manifestato in un modo o nell'altro il suo scetticismo. «Dovere! Se avessi previsto che gli avvenimenti avrebbero preso questa piega, gliene avrei parlato prima.» Dava la perenne impressione di recitare una parte, e c'era da giurarci. Non faceva il minimo sforzo per nasconderlo. Sembrava dire «sono stato più furbo di te, vediamo come te la cavi stavolta.» Allora Maigret fece qualcosa che avrebbe potuto costargli caro, perché non aveva niente da guadagnare e semmai tutto da perdere a misurarsi con un avversario potente scaltro come Masculin. Quello, in piedi, gli stava tendendo la mano. In un lampo il commissario si ricordò di Poin e della storia delle mani sporche. «Non stete a considerare i pro e i contro. Prese la tazza del caffè ormai vuota e se la portò alle labbra, ignorando la mano che gli veniva offerta. Lo sguardo del deputato si incubì, e il fremito all'angolo della bocca, lungi dall'attenuarsi, si accentuò. Disse soltanto «Arrivederla, signor Maigret!» Aveva intenzionalmente calcato sul signor come parve al commissario? Se sì, era una minaccia appena camuffata, perché significava che Maigret non si sarebbe freggiato ancora a lungo del titolo di commissario. Seguì con lo sguardo Masculin, che ritornava al suo tavolo e sussurrava qualcosa agli altri commensali. Poi, sopra pensiero, chiamò il cameriere. «Il ruolo importante nella vita del paese» tenevano gli occhi puntati sul commissario. Probabilmente buttò giù l'acquavite senza neanche accorgersene, perché solo una volta fuori ne sentì il sapore in bocca. Non era la prima volta che gli capitava di fare un'entrata del genere, più da collega che da capo. Aprì la porta dell'ufficio degli ispettori e, spingendo il cappello verso la nuca, andò a sedersi all'angolo di un tavolo. Poi vuotò la pipa sul pavimento, battendola contro il tacco e cominciò a riempirla un'altra volta. Le guardò uno dopo l'altro, impegnati in svariati compiti, con un'espressione da padre di famiglia, che rientrando a casa la sera è contento di rivedere i familiari e li passa tutti in rassegna. Lasciò trascorrere un po' di tempo prima di borbottare. «Scommetto che presto ci sarà una tua foto sui giornali, caro Lapoint?» L'ispettore sollevò la testa, sforzandosi di non arrossire, con uno sguardo leggermente incredulo. In fondo tutti quanti, eccetto Maigret, che vi era fin troppo abituato, provavano un intimo compiacimento quando i giornali pubblicavano la loro fotografia. Tuttavia fingevano sempre di esserne infastiditi. «Proprio la pubblicità che ci voleva per passare inosservati durante gli appostamenti?» Anche gli altri ascoltavano. Se Maigret aveva deciso di andare a parlare con Lapoint nell'ufficio comune, era perché quel che aveva da dirgli interessava tutti. «Prendi un tèquino e va alla camera. Sono certo che non ti sarà difficile rintracciare il deputato masculin e mi stupirei se non lo trovassi circondato da un folto gruppo di testimoni. Ti rilascerà una dichiarazione che dovrai trascrivere con la massima scrupolosità. Poi torna in ufficio per battere la macchina e lasciamela sulla scrivania». Dalla sua tasca facevano capolino i giornali del pomeriggio, con in prima pagina le fotografie di Auguste Poin e del commissario. Vi aveva dato solo un'occhiata di sfuggita, ma sapeva quasi esattamente cosa doveva esserci scritto sotto i titoloni. «E tutto?» si informò Lapoint mentre prendeva cappotto e cappello dall'attaccapanni. «Per il momento sì». Maigret restò nell'ufficio fumando assorto. «Ditemi un po', ragazzi». Gli ispettori sollevarono di nuovo la testa. «Cercate di pensare ai colleghi della Rode Sossè che si sono fatti mettere alla porta o che sono stati costretti a presentare le dimissioni». «Di recente?» domandò Lucas. «Poco importa quando, diciamo, nel corso degli ultimi dieci anni». «Dovrebbe esserci un elenco da qualche parte», esclamò Torrance. «Cita qualche nome». «Baudelaine. Adesso esegue indagini per conto di una compagnia di assicurazioni». Maigret provò a ricordarsi di Baudelaine, un ragazzo alto e pallido che probabilmente aveva lasciato la sureté non per disonestà o scorrettezza, ma perché impiegava più energie e astuzia a spacciarsi per malato che a compiere il suo dovere. «Un altro». «Falcone». Questo aveva superato la cinquantina ed era stato pregato di andare in pensione anticipata perché si era messo a bere ed era diventato inaffidabile. «Un altro». «Valencour il piccoletto». «Troppo basso». Contrariamente a quanto avevano creduto all'inizio, non venivano fuori molti nomi e ogni volta, dopo aver richiamato alla memoria le fattezze della persona corrispondente, Maigret scuoteva la testa. «Non ci siamo ancora. Mi serve un tipo corpulento, quasi come me». «Fischer!» Scoppiarono tutti a ridere perché questo Fischer pesava almeno centoventi chili. «Grazie a tante!» borbottò Maigret. Rimase con loro ancora un po', ma finì per allontanarsi sospirando. «Lucas, ti dispiace telefonare alla rude Sossè e chiedere di passarmi Catru?» Poiché ormai le ricerche si erano spostate sugli ispettori che avevano lasciato la sua retè, rivolgersi all'amico non significava più chiedergli di tradire un segreto d'ufficio. Catru, che lavorava lì dentro da oltre vent'anni, aveva più elementi di quanti ne avessero ispettori della polizia giudiziaria per rispondere alla sua domanda. Un'idea, sia pur vaga, il commissario doveva avercela, era evidente, anche se non riusciva a metterla bene a fuoco. Eppure, dall'espressione a bella posta burbera, dallo sguardo concentrato con cui fissava le persone senza vederle, si intuiva che adesso sapeva in che direzione cercare. Continuava a sforzarsi di ritrovare quel nome che per un attimo gli sembrava di avere avuto sulla punta della lingua. Lucas parlava al telefono rivolgendosi con familiarità alla persona che gli aveva risposto, probabilmente un collega. Catru non c'è. Non vorrai dirmi che è in missione all'altro capo della Francia? No, sta male. È in ospedale? No, a casa. Ti sei fatto dare l'indirizzo? Pensavo lo avesse. In effetti lui e Catru erano buoni amici, però non si erano mai scambiati visite. Maigret ricordava soltanto di averlo accompagnato una volta a casa in Boulevard de Batignolle, nella parte alta, sulla sinistra, e gli sembrava che a destra del portone ci fosse un ristorante. La foto di Pichemal è stata pubblicata? Sì, in seconda pagina. Telefonate? Ancora niente. Passò dal suo ufficio, dove senza neanche sedersi, diede una scorsa alla corrispondenza. Poi portò a Torrance qualche documento che lo riguardava, e infine scese in cortile, incerto se prendere una delle auto in dotazione alla polizia giudiziaria. Alla fine preferì un tassì. Benché nella sua visita a Catru non ci fosse nulla di strano, ritenne più prudente non lasciare una macchina del che desorfevre ad aspettarlo davanti al portone. All'inizio sbagliò stabile, perché adesso c'erano due ristoranti a cinquanta metri l'uno dall'altro. Poi chiese alla portinaia. — Abita qui il signor Catru? — Secondo piano a destra, l'ascensore è guasto. Suonò il campanello. Non ricordava la moglie di Catru che venne ad aprirgli la porta, e che invece lo riconobbe subito. — Si accomodi, commissario? — Suo marito è a letto? — No, in poltrona. Ha solo una brutta influenza. Di solito la fa all'inizio dell'inverno, stavolta se l'è presa alla fine. Alle pareti erano appese numerose fotografie dei due figli, un maschio e una femmina in ogni fase della loro vita, e poiché entrambi erano ormai sposati, alla collezione cominciavano ad aggiungersi le fotografie dei nipotini. — Maigret! esclamò incredulo Catru in tono festoso, prima ancora che il commissario avesse raggiunto la porta della stanza in cui si era installato. Non era un salotto vero e proprio, ma un ampio soggiorno dove, con ogni evidenza, si svolgeva gran parte della vita familiare. Catru, avvolto in una vestaglia pesante, era seduto vicino alla finestra con alcuni giornali sulle ginocchia, mentre altri erano appoggiati su una sedia al suo fianco. Su un tavolino c'era una tazza di tisana. Tra le dita aveva una sigaretta. — Ti lasciano fumare? — Zitto, va! Non metterti dalla parte di mia moglie. Faccio solo un tiro ogni tanto per togliermi lo sfizio. Aveva la voce rauca e gli occhi febbricitanti. — Togliti il cappotto, qui fa molto caldo. Mia moglie dice che devo sudare. Prendi una sedia. — Beve qualcosa, Maigret? gli chiese la donna. Era quasi una donna anziana, e il commissario ne fu sorpreso. Lui e Catru erano presso a poco coetanei, ma rispetto alla moglie dell'amico la signora Maigret, secondo lui, appariva molto più giovane. — Ma certo che beve qualcosa. Dai, Isabelle, non hai bisogno di aspettare la risposta. Prendi la bottiglia di Calvados invecchiato. Fra i due uomini scese un silenzio imbarazzato. Di certo Catru sapeva che il collega della polizia giudiziaria non era andato a trovarlo per informarsi della sua salute, e forse si aspettava domande più spinose di quelle che Maigret aveva in mente. — Sta tranquillo, vecchio mio. Non ho alcuna intenzione di metterti in difficoltà. Allora, l'altro lanciò un'occhiata alla prima pagina del giornale, come a dire — È per questo che sei qui, vero? Maigret aspettò che arrivasse il suo bicchiere di Calvados. — E io? — protestò l'amico. — Tu non puoi bere. — Ma il dottore non ha detto niente. — Non c'è bisogno che lo dica, lo so da me. — Solo un goccetto, per bagnarmi le labbra. La moglie gli versò un fondo di bicchiere, e proprio come avrebbe fatto la signora Maigret, sparì con discrezione. — Ho un'idea in testa che non riesco ad afferrare, ammise Maigret. — Poco fa, con gli ispettori, abbiamo tentato di elencare degli uomini che hanno lavorato da voi e che sono stati messi alla porta. Catru continuava a guardare il giornale, cercando un nesso tra le parole di Maigret e quel che aveva appena letto. — Messi alla porta per quale motivo? — Per qualunque motivo, sai che voglio dire. Capita anche a noi, ma più di rado perché siamo di meno. Catru sorrise sornione. — Davvero la pensi così? — Beh, forse anche perché noi ci occupiamo di poche categorie di reati. Di conseguenza, la tentazione è meno forte. — Prima in ufficio ci siamo scervellati, ma ci sono venuti in mente solo tre o quattro nomi. — Quali? — Baudelain, Falcone, Valcourt, Fischer. — Tutto qui. — Più o meno, perciò ho preferito venire a trovarti. — Non è questo il tipo d'uomo che sto cercando. Mi interessa uno che abbia preso una brutta strada. — Come là-bas? Non era strano che Catru pronunciasse giusto quel nome? Sembrava quasi che l'avesse fatto apposta per passare un'informazione a Maigret, ma come di sfuggita. — Sì, ci ho pensato. È probabile che sia in qualche modo coinvolto, però non è lui che cerco. — Hai in mente un nome? — Un nome e una faccia. Quando me l'hanno descritto ho subito avuto l'impressione di conoscerlo, poi... Descrivilo pure a me. Magari ci arriviamo prima che se ti dessi un elenco completo di nominativi, tanto più che neanche io me le ricordo tutti. — Innanzitutto chi lo vede lo prende per un poliziotto. — Questo può valere per molti. — Sulla quarantina, più robusto della media, ma un po' meno di me. Catru sembrava soppesare la corporatura del suo interlocutore. O io mi sbaglio di grosso o continuo a fare l'investigatore per conto suo oppure per conto di altri. — Per un'agenzia investigativa privata? — Forse. Non è indispensabile che abbia il nome sulla porta di un ufficio e neanche che metta annunci sui giornali. — Ce ne sono tanti che, raggiunti i limiti d'età, hanno aperto un'agenzia, compresi alcuni ex commissari molto in gamba, come Luis Ganonge, per esempio, e Cadet, che è stato il mio capo. — Anche da noi ci sono casi simili, ma io parlavo di un altro genere di persone. — Ti hanno fornito qualche particolare? — Fumai il sigaro. Maigret si accorse subito che a Catru era venuto in mente un nome. Aveva corrugato la fronte e gli si leggeva in faccia un certo disappunto. — Ti dice qualcosa? — Sì. — Chi è? — Un farabutto. — Cerco proprio un farabutto. — Un farabutto di bassa levatura, ma pericoloso. — Perché? — Primo, perché i farabutti di questo genere sono sempre pericolosi. — Secondo, perché sembra che faccia lavoro sporco per alcuni politici. — Anche questo quadra perfettamente con il tipo che cerco. — Credi che sia coinvolto nella faccenda di cui ti occupi? — Se corrispondi ai dati che ti ho fornito, se fuma il sigaro o se vazzica negli ambienti della politica, ci sono buone probabilità che sia il mio uomo. — Non starai parlando di... A un tratto un volto si era fatto strada nella memoria di Maigret, un volto piuttosto largo con gli occhi gonfi e le labbra carnose deformate da un mozzicone. — Aspetta, adesso mi viene in mente... E... Ma il nome continuava a sfuggirgli. — Benoit, sussurro Catrou. — Eugène Benoit ha aperto un'agenzia investigativa in Boulevard Saint-Martin, in un mezzanino sopra un'orologeria. — C'è il suo nome sul vetro della finestra. — Credo che la porta sia più spesso chiusa che aperta, perché tutto il personale dell'ufficio consiste in una sola persona, lui stesso. In effetti, era proprio l'uomo del quale il commissario cercava di ricordarsi da ventiquattro ore. — Immagino che non sia facile procurarsi una sua fotografia, vero? Catrou riflettì. — Dipende da quando di preciso ha lasciato la sorete. Doveva essere... Fece qualche calcolo sottovoce, poi chiamò. — Isabelle! La moglie nella stanza accanto arrivò subito. — Mi prendi l'annuario della sorete nello scaffale in basso della libreria. Ce n'è uno solo di qualche tempo fa, contiene due o trecento fotografie. La moglie lo tirò fuori, e lui cominciò a scorrerlo. Indicò a Maigret una sua fotografia, e solo nelle ultime pagine trovò quel che cercava. — Oh, eccolo qui. Ora ha qualche anno di più, ma non è cambiato molto. Da quando lo conosco io è sempre stato grasso. Anche Maigret lo riconobbe, perché gli era capitato di incontrarlo. — Ti dispiace se ritaglio la sua foto? — Fa pure. — Isabelle, prendi un paio di forbici. Maigret riposi il pezzo di carta patinata nel portafoglio e si alzò. — Sei di corsa? — Sì, abbastanza. Del resto suppongo che tu preferisca non sapere troppo di questa faccenda. L'altro capì. Finché Maigret non scopriva con precisione qual era il ruolo della suretè in quella storia, era meglio per Catrù che il collega gli dicesse il meno possibile. — Hai paura? — Non tanta. — Credi che può? — Sono convinto che stanno cercando di usarlo come capro espiatorio. — Bevi un altro calvados? — No, grazie, stami bene. — La moglie di Catrù lo riaccompagnò alla porta, e una volta in strada Maigret prese un altro tassi e si fece portare in Rouvanot. Fu un caso se decise di cominciare da lì. Bussò alla guardiola della portinaia che lo riconobbe. — Mi scusi se la disturbo ancora, ma vorrei che guardassi attentamente questa fotografia. — È l'uomo che è salito dalla signorina Blanche? — Rifletta con comodo. Ma la donna non ebbe bisogno di riflettere, e scosse la testa senza esitare. — No di certo? — Ne è sicura. — Sicurissima. — Anche se la foto è di qualche anno fa, e nel frattempo l'uomo è un po' invecchiato. — Anche se avesse avuto una barba finta, le direi che non è lui. Maigret la sbirciò di sottecchi, colto per un attimo dal dubbio che la risposta potesse esserle stata suggerita. — Ma no, sembrava sincera. — La ringrazio, sospirò rimettendosi il portafoglio in tasca. Era un brutto colpo. Si era quasi convinto di essere sulla pista giusta, e alla prima verifica crollava tutto. Il tassista lo stava aspettando, e poiché erano più vicini a Rujacob, gli disse di portarlo al bistrò dove Pichemal aveva l'abitudine di fare colazione. A quell'ora non c'era quasi nessuno. — Le dispiace dare un'occhiata a questa foto? — chiese al padrone. Non aveva quasi il coraggio di guardarlo, tanto temeva la sua risposta. — Lo riconosco, solo che di persona mi è sembrato un po' più vecchio. — È l'uomo che ha avvicinato Pichemal e che è uscito dal bar insieme a lui? — Sì. — Ne è certo. — Certissimo. — La ringrazio. — Beve qualcosa? — Adesso no, grazie. Ripasserò. Questa testimonianza cambiava tutto. Finora Maigret aveva pensato che fosse stato sempre lo stesso individuo a presentarsi nei vari posti. Dalla signorina Blanche, nel bistro frequentato da Pichemal, all'hotel du Berry, dalla vedova del professore e in boulevard Pasteur. A un tratto scopriva invece che c'erano almeno due persone. – Sì. – Sì. – All'hotel. Sì. – Sì. – Sì. – Sì. Grazie.